Musica Sono Cristiano Garella dell'azienda Le Pianelle di Bruce Dengo Sono Andrea Zanetta, faccio parte dell'azienda agricola Le Pianelle Noi produciamo circa 20.000 bottiglie tra Bramaterra, Costella Sesia Rosata e Costella Sesia Rosso Bramaterra è un uvaggio di nebbiolo, vescolina e croatina Nel nostro caso vengono vinificate in acciaio e successivamente invecchiate in botte grandi Il nebbiolo invece a differenza di vescolina e croatina fa vinificazione in tini troncoponici in rovere francese e poi invecchia sempre in botte grandi e in rovere di Slavonia Cerchiamo di fare il più possibile a mano, sia sulle miniatura, cimatura Tutti gli interventi sulla parte delle foglie e anche sui grappoli Il rosato per noi non è un secondo vino, è un vino vero e proprio Arriva da selezione di vigneti specifici Quindi abbiamo delle linee più fresche, versanti a est Ed è ovviamente a base nebbiolo, quindi 95-97% nebbiolo Per poi avere una piccola chiosa di vespolina e o croatina per la parte fresca e aromatica In cantina ovviamente utilizziamo pochi prodotti, il minimo possibile Le fermentazioni sono naturali, cerchiamo di mantenere i vini più sporchi, più fecciosi possibile Per mantenerli più vitali, per poi travasarli in preimbottigliamento E avere vini con bassi livelli di suforosa Da un anno a questa parte abbiamo piantato un vigneto a Lessona Quindi a breve ai nostri costerazzesi e al nostro bramaterra si affiancherà anche un Lessona Quindi un altro vino a base nebbiolo, vedremo se una piccola quota di vespolina o senza vespolina Grazie a tutti